Tre giorni di eventi dal 28 al 30 luglio dedicati all'acqua e al ruolo centrale che riveste nel territorio. È la proposta di A2A in Valtellina e Val Chiavenna. In occasione delle giornate dell'acqua, venerdì 28 e sabato 29 luglio, sarà la musica ad entrare in due dei più importanti impianti idroelettrici del gruppo, grazie al duo Krakatoa, nato dall'incontro di Samuel dei Subsonica e Pisti dei Motel Connection, e Saturnino, lo storico bassista di Giovanotti. In queste occasioni, liberamente aperto al pubblico previa prenotazione, il DJ set sarà introdotto dal duo emergente Tec Noir, che suonerà dalle 19.30 alle 20.30. I Krakatoa si esibiranno il 28 luglio alle 21 nel giardino della centrale idroelettrica di Fraele, con un servizio navetta gratuito dal parcheggio Le Motte di Val di Dentro a partire dalle 18.00. Saturnino, invece, sarà protagonista il 29 luglio alle 21 nel giardino della centrale idroelettrica di mese. Durante le giornate dell'acqua, gli impianti di A2A saranno visitabili anche in altre modalità. Sabato 29 luglio, due tour guidati da Premadio a Grosio permetteranno di esplorare il percorso della ciclovia dell'energia. I bike tour porteranno i visitatori con una guida esperta nella natura lungo un percorso di 25 km per le strade e i sentieri che collegano le centrali di A2A. Per chi ne avrà bisogno, verranno messe a disposizione gratuitamente biciclette elettriche, oltre a caschi e acqua, e verranno organizzate delle navette per riportare i partecipanti al punto di ritrovo, previsto al parcheggio della centrale Giuliano Zuccoli di Premadio alle 9 e alle 14. Oltre al bike tour ci sarà una visita alla centrale di Grosio appositamente aperta al pubblico e le visite a porte aperte coinvolgeranno anche la centrale di Mese. A2A aprirà le porte dei suoi impianti di Grosio sabato 29 luglio dalle 9 alle 17 e Mese, domenica 30 luglio dalle 9 alle 17 e 30, con tour guidati di 40 minuti circa. A cittadini e turisti verrà offerta l'opportunità di conoscere da vicino le attività legate alla produzione di energia elettrica e di scoprire i processi innovativi adottati dall'azienda per garantire un utilizzo sostenibile dell'acqua. La partecipazione a tutti questi eventi è a ingresso libero con prenotazione sul sito www.eventia2a.it slash giornate dell'acqua. Grazie. Grazie.